Tito Boeri, economista, presidente IMSS, Pierangelo Sequeri, presidente del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II e Philippe Poirier, docente francese, sono solo alcuni dei nomi eccellenti della Summer School del Cespec. La non edizione, dal 13 al 17 settembre, sarà itinerante, da Cuneo a Savigliano, da Alba a Mondovì. Il titolo sarà Futuri, immaginare il mondo, costruire il mondo di domani, quindi noi ci avventuriamo su un argomento che in un momento di disordine globale, di caos, è un argomento complesso, anche perché è difficile leggere le linee di tendenza. Abbiamo perciò pensato di invitare un panel di relatori molto variegato che cercheranno di traguardare i temi e cercheranno, diciamo così, come dico io, di surfing the caos, cioè di riuscire a stare con un immaginaria a tavola da surf, sopra l'onda, vedendo che cosa potrà capitare nel futuro. È un tema che più attuale di questo non poteva esserci. La grande disponibilità che la Fondazione riversa nei confronti del Cespec è ripagata dalla quantità di studenti, sempre in incremento, dalla qualità dei relatori. Sarà certamente una Summer School molto piena e molto attiva. Il futuro prospettato, come dire, è più probabile, è un futuro di decadenze, di declino, di povertà, di problematicità da vari punti di vista. E quindi volevamo dare una sferzata anche ottimistica, anche un po' una speranza a questo futuro, che però appunto è declinato al plurale perché non è che si possa più incapsulare, come dire, i diversi punti di vista in un punto di vista giusto, eccetera. Allora, futuro è per dimostrare che c'è una prospettiva anche pluralistica. Una sessione è interamente dedicata a 15 borsisti che arrivano da tutta Italia, dalle Filippine, dalla Germania, Polonia, Irlanda e Brasile.